In Darsena Toscana con i lavoratori portuali alle spalle, una giornata di tensioni, infatti si sono riuniti in piazza del luogo Pio, circa 300 lavoratori con i sindacati a rappresentarli per chiedere un nuovo incontro con l'autorità portuale, incontro che si è verificato per poter esporre le richieste per chiedere di essere ascoltati. Da questo momento in poi terminano i giorni di sciopero e si cerca di procedere per poter definire quelle che sono le necessità dei lavoratori. Qual è stato l'esito di questo ultimo incontro? È stato un incontro abbastanza duro nell'ambito di una protesta che ha riguardato tanti lavoratori, che veniva dopo una trattativa su cui ci siamo impegnati in tre occasioni senza arrivare ad una soluzione. Dopo dieci giorni di sciopero, quindi una situazione di esasperazione alle quali secondo me dobbiamo trovare una via di sbocco per il bene comune e comunque soddisfacente per tutti. Detto questo, noi ci sono stati chiesti tanti impegni, direttamente quasi come se noi fossimo la controparte e noi invece siamo il regolatore. Abbiamo preso comunque l'impegno che faremo comunque di occuparci del modello tariffario in porto e anche della riorganizzazione del modello del lavoro portuale. Abbiamo preso impegno per lavorare per il superamento della precarietà, faccio riferimento ai lavoratori di in tempo ma anche ad altre situazioni che ci sono in porto, che ci sono state segnalate, quindi noi le verifieremo. Non abbiamo fatto facili promesse, pensiamo di poter lavorare comunque nel senso che è stato indicato e di recuperare però un tavolo, infatti la prima proposta che io ho fatto alle organizzazioni sindacali e ai lavoratori è quella di elaborare una piattaforma in modo tale che sia chiaro quali sono i punti su cui si dovrà discutere, considerato che comunque noi lavoreremo per ottenere comunque questi risultati. È stato un incontro molto positivo, il Presidente ha preso degli impegni e la novità forse è che abbiamo una data di verifica dello stato avanzamento dei lavori che è il 4 ottobre, nel mentre proseguiremo con l'azione di protesta perché da stasera quando finisce lo sciopero inizierà il blocco degli straordinari fino al 4 ottobre, data della prima verifica degli impegni assunti. Grazie